Buongiorno a tutti e benvenuti al consueto appuntamento della fine settimana. Vediamo che dopo 5 sedute positive le principali piazze finanziarie europee archiviano la seduta la seconda settimana del 2019 in territorio negativo. Dopo 5 sedute di maglia nera della seduta Parigi che chiude a meno 0,51% seguì a ruota da Londra e da Francoforte che chiudono rispettivamente a meno 0,36% e meno 0,31% mentre solo Madrid riesce a chiudere a più 0,23%. Nonostante le chiusure al di sotto la parità, i sentiment sui mercati si è risollevato dopo le rassicurazioni da parte del Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell e del suo vice Richard Clarilla sull'atteggiamento paziente che la banca centrale adotterà nel decidere eventuali futuri rialzi dei tassi di interesse in assenza dei rischi infrazionistici. Gli investitori hanno visto con ottimismo anche i possibili progressi nei rapporti commerciali tra Cina e Stati Uniti con l'aumento dei prezzi del petrolio e i dati americani che confermano un'economia in salute. Una Fed accomodante e un'economia ancora forte creano un cocktail positivo per i mercati con gli operatori che stimano una probabilità del 18% di uno o più aumenti del costo del denaro alla fine di giugno molto al di sotto del 45% di un mese fa. Ciò ha spinto il dollaro al ribasso sostenendo un ribalzo dei mercati emergenti e delle materie prime e ha alleviato i timori degli investitori sulla crescita economica globale. Rimane tuttavia il dubbio sul fatto che l'espansione del PIL globale sia duratura e se porta a beneficio le aziende, infatti l'incertezza sulle prospettive commerciali ha pesato soprattutto sulle letture dell'economia mondiale nelle ultime settimane e ha portato gli analisti a tagliare le previsioni del prossimo anno sugli utili delle aziende. Tuttavia, in seguito ai progressi delle trattative tra Washington e Pechino sul tema d'Azi e in vista dell'incontro di fine mese tra il vicepremio cinese Liu He e il segretario al tesoro americano Steve Munchi, il sentiment del mercato si è risollevato. Per quanto riguarda invece Piazza Affari, alle vendite cede le vendite dopo cinque sedute consecutive in rialzo, l'indice FUTS-MIB ha chiuso in flessione dello 0,06%, quota 19.290 punti, dopo che nelle precedenti cinque sedute era salito di oltre il 5%. Se da un lato l'asta BTB ha confermato il calo forte dei tassi a una domanda sostenuta per il BTB, l'Istat ha diffuso preoccupanti dati sulla produzione industriale che rafforza i dimori che l'Italia vada verso la recessione, con stime del governo sul PIL 2018 ormai quasi impossibile a centrale. La prima lettura sul PIL del quarto trimestre arriverà a fine mese e un segno meno su base trimestrale abbinato a quello già registrato nel terzo trimestre porterebbe il paese in recessione tecnica. Quindi questa è la situazione. Per quanto riguarda invece le news sono state rilasciate sul fronte macroeconomico in mattinata dalla Gran Bretagna sono arrivati diversi dati negativi alla produzione industriale che ha segnato a novembre un calo dello 0,4% rispetto al mese precedente facendo peggio delle attese. Gli analisti si aspettavano si aspettavano quindi un aumento del 0,3% mentre invece a ottobre la produzione industriale era scesa dello 0,5%. Su base anno quindi nei confronti novembre del 2017 la variazione è stata pari a meno 1,5%. Anche la bilancia commerciale ha sorpresa peggiora mostrando a novembre un saldo negativo di 12,02 miliardi di sterline contro un deficit di 11,95 miliardi del mese precedente. Gli analisti si aspettavano un miglioramento con un deficit commerciale pari a 11,40 miliardi di sterline. A dicembre invece l'inflazione a selle strisce scese a livello mensile dello 0,1% ed è cresciuto dell'1,9% su base annuale. In linea con il consensus degli economisti contattati da Wall Street Journal, l'indice dei prezzi al consumo COR, attentamente monitorato dalla Fed, è cresciuto dello 0,2% al mese su mese ed è 2,2% anno su anno. Anche in questo in linea con il consensus degli economisti. Sembra a dicembre i prezzi all'energia sono scesi del 3,5% mentre quelli dei generi alimentari sono aumentati dello 0,4%. Molto interessante è capire le indiscrezioni riportate dal quotidiano britannico Evening Standard a pochi minuti dalle ore 12 di ieri ore italiane che hanno dato, che secondo alcuni parlamentari ritengono che la data prevista per trasformare la Brexit, in realtà quella in cui il Regno Unito si separerà effettivamente dall'Unione Europea, ovvero il 29 marzo del 2019, potrebbe essere rimandata. Ciò questa situazione, quindi queste indiscrezioni hanno spinto la sterlina a un repentino rialzo al di sopra 1,28,50 nei confronti del greenback. I guadagni sono stati aiutati anche dalle parole del ministro degli esteri Jeremy Hunt, che ha menzionato esplicitamente la possibilità di annullare la Brexit in caso di mancata ratifica dell'accordo. Esisterebbero almeno 6 proposte di legge che devono essere approvate, proposte di legge essenziali, prima che il Regno Unito lasci l'Unione Europea. In particolare un ministro ha riferito al quotidiano che i tempi normativi sono diventati davvero molto molto stretti, ovvero sarà molto difficile che tutta la normativa riesci a passare in quanto tra i 15 gennaio, il giorno in cui i parlamentari devono dare il loro voto alla proposta di accordo con l'Unione Europea, della premia Teresa May ed il 29 marzo ci sono pochi giorni a disposizione. Mentre invece per quanto riguarda in un report intitolato The Economist Dollar Bear ci sono diciamo alcuni concetti importanti, alcune anzi voci, alcune opinioni interessanti che il dollaro dovrebbe nel 2019, c'è molta probabilità che va venduto, ma ancora deve essere chiaro su quale valuta, quale delle valute si apprezzerà del panorama valutario. Questo report è stato intitolato appunto come dicevo prima da The Agnostic Dollar Bear, dagli esperti della banca di America Merrill Lynch, che riassumono con efficacia quanto stia accadendo nel mercato dei cambi, ossia che l'idea che il dollaro sia da vendere sta raccogliendo consensi da parte di molti operatori, ma resta invece materia di discussione verso quale valute si dovrà indebolire. Per ora sembrano favoriti i yen e franco, ma in caso di tregua, USA e Cina a brillare saranno appunto le valute emergenti. L'euro soprattutto paga l'incertezza della propria politica europea, quindi questa è la situazione. Il destino del dollaro però come ben sappiamo è strettamente legato anche a sentiment dei mercati che si è risollevato dopo le rassicurazioni da parte del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell e del suo vice Richard Clarida, sull'atteggiamento paziente che la banca centrale adotterà nel decidere eventuali futuri rialzi dei tassi di interesse in assenza di rischi inflazionistici. Gli investitori hanno visto con ottimismo anche i possibili progressi nei rapporti commerciali tra Cina e Stati Uniti, l'aumento dei prezzi del petrolio e dati americani che confermano appunto un'economia inserita. Bene, adesso andiamo a vedere quello che sta succedendo per quanto riguarda la prossima settimana, per quanto riguarda il market mover, lunedì 14 c'è la conferenza stampa del presidente Powell, mentre invece martedì 15, attenzione al voto dal Parlamento Britannico sull'accordo Brexit, qua ci potrebbe stare un po' di volatilità su un capo alla Stellini in base a tutti i vari news anche di corridoio che arriveranno da Londra, alle ore 11 la bilancio commerciale di novembre della zona euro, alle 14.30 l'indice di prezzo alla produzione in dicembre. Vorrei aprire un attimo un piccolo parentesi per quanto riguarda il voto britannico sull'accordo Brexit. Qui molto probabilmente, visto che come già abbiamo evidenziato prima, la situazione non è tanto, è molto incerta, molto probabilmente si potrebbe anche aprire uno scenario di crisi di governo, nonché voto anticipato, dimissioni della May e quindi la situazione potrebbe essere, ciò potrebbe comportare delle grosse perdite in capo alla Stellina, potrebbe essere quindi influenzata da questa situazione, quindi una fase importante di depreciamento, quindi facciamo un po' di attenzione. Per me la view, al momento, visto che la situazione è negativa, in capo non corre nulla di buono, vediamo che ci sono situazioni un po' in bilico sul Parlamento inglese, la situazione potrebbe, io sono del parere che molto probabilmente potremmo assistere a una fase, una decisa fase di bassista sulla Stellina. Andiamo a vedere mercoledì invece il 16 gennaio, alle 10.30, sempre dalla Gran Bretagna, abbiamo l'indice di prezzo al consumo di dicembre, alle 14.30 un doppio appuntamento dagli Stati Uniti, i beni essenziali di dicembre, i beni adottati di dicembre e poi alle 16.30 scorte di petrolio greggio. Giovedì 17, alle ore 11, l'indice dei principali prezzi al consumo di dicembre, sempre alle 14.30, permessi di costruzioni rilasciati dagli Stati Uniti, sempre negli Stati Uniti richieste iniziali dei sussidi alla disoccupazione e l'indice di produzione della Fed di Filadelfia. Passiamo a venerdì 18 gennaio, a mezzanotte 30 dal Giappone l'indice dei prezzi al consumo, poi alle 10.30 abbiamo le vendite al dettaglio della Gran Bretagna di dicembre, poi c'è il vertice dell'OPEC, alle 14.30 dal Canada l'indice dei principali prezzi al consumo di dicembre, alle 15.15 la produzione industriale di dicembre e alle 16 l'indice di fiducia dell'università del Michigan del mese di gennaio. Passiamo alla seconda parte, la parte dedicata alle varie, partiamo dalle nostre pannelli di controllo, partiamo dal best and worst, bene per quanto riguarda il best and worst, vedete in questo momento abbiamo le valute che in questa settimana hanno dato delle grosse performance, abbiamo il dollaro della Nuova Zealanda e il dollaro australiano, ovvero le due valute ad alto al momento con dei buoni rendimenti, quindi 5.78, 4.53, mentre abbiamo un dollaro americano che ha perso vitalità, ha perso quota, ed uno yen altrettanto che perde meno 5.80%, quindi alla fine molto probabilmente abbiamo, questi sono i cross, nonché ne mergero, che dovremo seguire anche per la prossima settimana, in particolare per quanto riguarda lo yen, la scheda dello yen, riferita allo yen, vedete abbiamo tutte movimentazioni al rialzo, quindi molto probabilmente la situazione potrebbe continuare anche nella prossima settimana, potremmo avere delle decise movimentazioni al rialzo, soprattutto nel caso del dollaro yen, possibilità su euro yen, sterlina yen, audi yen, new zealand yen. Per quanto riguarda invece il dollaro americano, vedete il dollaro americano invece qua abbiamo delle decise movimentazioni con un dollaro debole, in particolare segnalo di zero in dollaro, continuazione della movimentazione del buy, AUDUSD, quindi continuazione del buy, dollaro yen, ecco lo qua di nuovo buy, ed USDCAN invece sell. Bene, questa è la situazione da seguire anche per molto probabilmente nella prossima settimana. Adesso andiamo a vedere per quanto riguarda la situazione relativa al net change, però molto velocemente perché il net change, siccome stiamo all'inizio dell'anno, quindi non ci offre delle grosse indicazioni, andiamo a vedere, anche perché vedete dobbiamo aspettare ancora un po', abbiamo dal mensile all'annuale, i valori sono uguali, quelli che cambiano alla fine sono il giornaliero e settimanale, quindi non c'è una una indicazione abbastanza, diciamo, interessante, quindi al momento lascio ancora il stand by, il net change e passo direttamente all'EMA dashboard, all'altro, al terzo e ultimo pannello di controllo. Allora, che dire, l'EMA dashboard, quali sono le coppie da seguire con maggiore interesse? Allora, prima di tutto c'è la possibilità di questo per quanto riguarda, no, prima passiamo alle major, euro-dollaro, vedete, si sta rigirando un'altra volta sell, quindi c'è la possibilità di un rientro al di sotto 1,14. Dollaro-yen, quindi qua è ancora un po' in una fase di standing, una fase di, vedete, 2,2,2,2, però molto probabilmente potrebbe ripartire, ci potrebbero stare, come ho visto prima, delle ripartenze long. Ok. Stellina-dollar, stellina-dollar al momento è quasi tutta girata, però qua le medie sono viziate da quello che abbiamo visto prima, diciamo, quei commenti che poi sono stati del quotidiano, quindi io qua mi aspetterei più una veduta, una visione ribassista. Poi, audio-sd, per me audio-sd potrebbe continuare ad andare buy, vedete, perché i valori più alti, per quanto riguarda le medie, sono tutti quanti verdi, vedete qua, 2,6, 3,1, 1,6, 0, 2,6, quindi i valori più alti, quindi io qua per un buy, quindi lo metto qua vicino, audio-sd, buy. Ok. Poi, dollaro-iena potrebbe continuare il buy. Ok. Poi, euro-dollaro, dobbiamo un attimo attendere, quindi metto uguale. stellina-dollaro, attendiamo, usd-franco, ovviamente dipende dall'euro-dollaro, poi usd-cad, usd-cad, siamo in una fase di correzione, però, secondo me, potrebbe continuare ad andare nel terreno di fondo sell. Anche qua i valori ribassisti sono quelli più alti, vedete, quindi per me sell. New Zealand-dollaro rimane buy, quindi acquistiamo. Ora, per quanto riguarda invece, oggi facciamo pure i cross, per quanto riguarda però le operazioni in ottica settimanale più importanti, mi soffermerei soprattutto su euro-franco, euro-franco per opportunità di vendite. Ed, out-gad, per opportunità di vendite. Ok. Anche se qua i valori però vedete stanno girando, e poi attenzione a stellina-dollaro australiano, stellina-dollaro della Nuova Zelanda, che potrebbero continuare il loro movimento sell, perché stiamo con un dollaro australiano e un dollaro della Nuova Zelanda, come abbiamo visto prima, molto forti. Il tutto dipende dalla stellina. La stellina si indebolisce, quindi qua si gira un'altra volta sell, come appunto abbiamo visto ieri mattina, durante l'ultima diretta live era tutto sell. I movimenti blu-verdi sono quelli dovuti appunto a quella, sempre a quel movimento rialzista dopo le ore 12. E poi abbiamo Euro New Zealand, per un sell. ok. Gli indici, gli indici per me, la view al momento rimane ancora, siamo in una fase correttiva, però, diciamo, i movimenti di fondo restano ancora ribassisti. Tirando le somme, scelte, al momento, per quanto riguarda i cross e le major, abbiamo la, per quanto riguarda le major, i migliori scenari sono, li metto in celeste, io un po' se celeste si vede. Allora, i migliori scenari sono, Auto SD per un buy. Ok. New Zealand dollaro per un buy. Questo per quanto riguarda le major. Per quanto riguarda invece i gross, Euro franco sell, il migliori assoluto però, Euro New Zealand. Eccolo qua. Euro New Zealand per un sell. Quindi questi sono i quattro, i migliori al momento, che faccio anche una foto, i migliori in assoluto. Bene, questa è la situazione. Adesso andiamo a vedere, quindi cancello un attimo tutto. Ok. Andiamo a vedere invece adesso, partiamo adesso la terza parte, quella dedicata all'analisi. Però, per chi vuole, ripeto, può anche per i nuovi, per chi vuole unirsi alla nostra community, abbiamo la diretta live giornaliera dei mercati, da lunedì al venerdì, quindi abbiamo una via webinar tenuta da me, c'è questa diretta dalle 8.30 alle 9.30, da lunedì al giovedì, dalle 15 alle 15.30, quindi apertura dei mercati europei, quelli americani. Potete inserire, potete iscrivervi direttamente da questo modulo, questo piccolo format, nome, cognome, mail, numero di telefono e quindi praticamente potete entrare a far parte anche voi della diretta live. Oltre alla diretta live io vi consiglio di seguire insieme anche la chat telegram, perché praticamente fanno parte di un unico contenitore. La teletrade official chat, a cura di diversi analisti teletrade e professionisti indipendenti. Anche qua potete compilare il format per poter entrare all'interno della chat telegram. All'interno della chat telegram adesso vi faccio vedere un po' come il funzionamento della chat telegram, eccolo qua, vedete, quindi ci sono tutte le varie analisi, quindi le varie indicazioni macroeconomiche, eccolo qua, vedete breaking news, tutte le varie indicazioni durante il corso della giornata, le analisi riferite agli indici, alle valute, anche sull'azionario, quindi le varie indicazioni con i vari pannelli di controllo. Qua è la parte iniziale, quindi praticamente il cosa succede venerdì, diciamo all'inizio abbiamo tutta una serie di informazioni interessanti per chi vuole, diciamo siete i benvenuti. Bene, adesso andiamo a vedere un po' cosa sta succedendo nell'analisi partendo appunto dall'euro dollaro. L'euro dollaro in ottica settimanale, come vi dicevo, siamo all'interno di una zona tra due livelli molto importanti, 1.15.312 per la precisione e 1.14.093. Diciamo che questi livelli sono, vedete, in questa zona non si vede bene, giallo, un attimo che cambio, eccolo qua, in questa zona abbiamo, vedete come quest'area, questa fascia, divide a metà il mercato, vedete, c'è stato un momento che stava sempre sotto e poi a partire dal metà aprile del 2017 poi c'è stato questo rimbalzo. Fondamentalmente diciamo che in questa zona adesso il prezzo si era proprio al centro di quest'area, quindi a momento la view, vedete, da questo massimo rimane a momento ribassista. Potrebbe continuare anche nel corso dei primi mesi del 2019, potrebbe andare a chiudere questo gap. Ovviamente le zone di demand sono queste, la prima è questa, che potrebbe incontrare un po' di difficoltà il prezzo a superarla. Quindi sotto 1.14.093 c'è una maggiore pressione ribassista, sopra 1.15.312 che in realtà è stato testato proprio questa settimana, ma poi vedete come, che cosa è successo, quindi sopra questa zona, un breakout confermato si va logo. Al momento dobbiamo attendere, dobbiamo vedere un po' quello che succederà questa settimana. Siamo proprio al centro, vedete, quindi la situazione che al momento, vedete, anche se ci spostiamo in ottica giornaliera, vedete, stiamo proprio in questa zona, quello che abbiamo indicato prima, ed quindi al momento non abbiamo delle grosse indicazioni. Quindi, aiutate che andiamo su H4, quindi la situazione al momento resta in dobbiamo aspettare. Per quanto riguarda invece il dollaro Yen, la situazione legata al dollaro Yen, vedete, abbiamo, analizzando in ottica multi time frame, abbiamo una situazione in cui, qui abbiamo un punto di swing, vedete, più alto, quindi abbiamo due minimi crescenti, da questa zona, se si mantiene ancora, questa settimana ha fatto un po' di cose strane, come saliscendi, però se si mantiene così, la view, per me, come abbiamo visto prima, anche per il best and worst, potrebbe essere positiva, quindi potrebbe continuare questa risalita. Se guardiamo il tutto in ottica giornaliera, è ancora valido questo pattern armonico, ovvero abbiamo una bullish grab, eccolo qua, il prezzo, guardate come si è appoggiato a 108,417, quindi al momento la view, vedete, rimane ribassista. Ha fatto una correzione al 61,8, quindi impulso correzione, quindi dovrebbe partire la fase estensiva. andiamo su stellina dollaro, stellina dollaro, note dolente, dobbiamo aspettare martedì 15 che cosa succede, vedete, sono un po' di rocetite, allora, eccolo qua, al momento vedete questa spinta, questa candela settimanale rialzista, la view per me è ancora ribassista, però questa candela è dovuta proprio a quello che è successo, eccolo qua, vedete, Verdi che ha rotto questa zona di supply, però è andata a riprendersi questa resistenza mensile, R1 mensile a 1,28,68, però da questa zona potrebbe, naturalmente, potrebbe continuare a movimentarsi al ribasso. Se andiamo a tracciare Fibonacci dall'ultimo massimo all'ultimo minimo, vedete, siamo qui dove ci troviamo, ci troviamo in una zona Fibonacci in zone PV, una Fibonacci, una zona in cui, eccola qua, quindi, vedete, il prezzo è molto interessante, da seguire, ci potrebbe stare un rimbalzo, eccolo qua, 50,62,8, dove appunto si è fermato, vedete, si è fermato su questa zona e da qua potrebbe ritornare un'altra volta verso il basso. Bene, poi, andiamo a vedere, invece, USD Franco, allora, USD Franco, vabbè, tutto dipende dal, dal grafico relativo all'Euro-Dollaro, andiamo a vedere AutoSD, allora, per quanto riguarda AutoSD settimanale, qua stiamo a un test, vedete, la partenza di un test molto importante, eccolo qui, vedete, zona di demand testata qui, qui, anche qua è stata testata, quindi da qua potremmo, il prezzo potrebbe avere una bella risalita, qua abbiamo un punto di swing primario, che sarebbe questo qua sul giornaliero, vedete, ho tracciato già, già siamo buy a mercato, adesso il prezzo si è fermato sopra 0,71,782, e la movimentazione, eccola qua, vedete, questo è l'ultimo minimo, assoluto, quindi, qua, dobbiamo, molto probabilmente, potrebbe iniziare a fare anche una piccola correzione, ma, ehm, però, la view, al momento, è rialzista, USD CAD, USD CAD, qua abbiamo, la view è ribassista, questo si vede da settimanale, eccola qua, qua, però abbiamo, vedete, come c'è stato un ritracciamento un po' più importante, che potrebbe continuare, anche durante la settimana, dove andare a prendere, appunto, la, questo, questa zona, io, vado, a, dove andare a prendere, un buon area, un area interessante, per, qualche movimentazione ribassista, eccola qua, 50, 61,8, quindi, questo potrebbe essere, che, appunto, passa anche, 1,34, 548, anche se, vedete, da qui, a qui c'è un bel po' di zona, potrebbe essere molto interessante, per, affinché, c'è un impulso, una correzione, vedete, impulso, correzione, e poi, giù, quindi, aspettiamoci, molto probabilmente, una correzione, quindi, andiamo a vedere, anche, il giornaliero, che cosa ci dice, eccolo qua, il giornaliero, anzi, eh, sì, il giornaliero, potrebbe, ovviamente, qua, sarebbe, 1,34, 458, abbiamo visto, sul giornaliero, abbiamo, anche, questo, 1,33, 261, che prezzo, potrebbe, anche, fermarsi, qua, il tutto dipende, vedete, qua, già sta correggendo, quello che succede, alla prossima, settimana, quindi, anche, qua, andiamo a mettere, fibonacci, andiamo a vedere, un po', vedete, 50, 61,8, è quello, che abbiamo, prodotto, sopra, al, in ottica, settimanale, e, al momento, la, aspettiamoci, una, correzione, o, qui, o, qua, quindi, vado a segnare, due zone, interessanti, una, è quella, che abbiamo visto, prima, e, un'altra, potrebbe, essere, questa, potrebbe, terminare, un po', prima, eccola, qua, passiamo, vabbè, H4, vedete, quello che vediamo, poi, il 0,11, invece, la, view, è rinanzista, eccolo, qua, 61,8, vedete, qua, tracciato, dal, questo, allora, prima di tutto, se andiamo a vedere, qua, è una zona, guardate, movimento, 5, ha ripreso, qua, salita, correzione, su 61,8, vedete, e, poi, da qua, c'è stato, stiamo, all'interno, della, fase, della, terza fase, ovvero, della, dell'estensione, del movimento, estensione, del movimento, quindi, che, potrebbe, continuare, a lungo, un bel po', vedete, qua, ho messo, eh, le estensioni, le proiezioni, di questo movimento, ed, vedete, questo è quello che, abbiamo, plottato, questo è il 61,8, non l'ho tolto, però, da qui, da qui, vedete, 68 l'ha preso proprio in pieno, ecco, eccolo qua, lo facciamo proprio così, lo mettiamo, ecco, 61,8 qui, vedete, salita, il prezzo è chiuso sopra 0,68, 103, ha fatto un breakout, qua sopra, vedete, qua, prima pullback, poi breakout, ehm, ovviamente, la view è rialzista, con un primo target, verso 0,69, 298, con, un movimento, che potrebbe arrivare, questo potrebbe essere un classico ABCD, vedete, che potrebbe arrivare, addirittura, a seguire, davanti a noi, abbiamo altri 300 punti, poi, andiamo a vedere, invece, per quanto riguarda, ehm, i cross, che abbiamo visto prima, gli scenari più interessanti, eurofranco, allora, eurofranco, la view è bearish, eccolo qua, quindi, vado a tracciare una piccola trendline, sotto 1,11, 823, si va sell, vedete, come è partito da qua, 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 tutti, tre massimi decrescenti, e, ha fatto un, un ciclo qua, sotto questa zona, si va sell, sul giornaliero, vediamo bene, il giornaliero, quindi, sotto la lenda di ingrandimento, eccolo qua, hm, questi sono i movimenti, il prezzo, ha chiuso, ha fatto una farsa, un falso breakout, 1,13, 0,15, quindi, qua, è di andare, in vendita, quindi, sarebbe, questa zona qua, possiamo andare sell, ok, bene, già da sotto, quanto tempo ci vuole, per poter arrivare, vediamo un po', vedete, come il prezzo ha testato, questo 1,13, 0,15, l'ha risentito, mio livello annuale, 86 punti, da qua sotto, si entra sell, poi abbiamo, outgad, outgad, sell, vedete, qua, è andato, a prendersi, è andato a testare, 50, 61,8, dell'ultimo movimento, questo movimento, qua, sarebbe, qua, lo sposto un po' più indietro, poi abbiamo, vedete, anche su quest'altro movimento, quindi abbiamo, dove il prezzo qua è andato a testare, abbiamo, una zona cluster, nel senso abbiamo, 50, 61,8, qua, un altro 61,8, qua, quindi, praticamente, è una situazione, interessante, da seguire, per, un sell, adesso, sta correggendo, quindi, andiamo a vedere, questa correzione, ottica daily, eccola qua, quindi, potrebbe arrivare, su 50, 61,8, per poter andare in basso, però, potrebbe, anche fare, una falsa rottura, 0,95, 383, questo lo diamo, anche sul giornaliero, eccola qua, vedete, bene, outgad, sell, poi, è interessante, eseguire, anche, sterlina, dollaro, australiano, serena, dollaro, vedete, qua, anche qua, 50, 61,8, quindi, questa è una zona che, qua, è, è stato tutto un momento, qua abbiamo preso diversi profitti, vabbè, comunque, ehm, qua potrebbe continuare la discesa, hm, questo è un classico, ABCD, A, B, C, D, eccolo qua, sul 100, quindi, davanti a noi abbiamo un bel po' di movimento, vedete, 1200 e passapunti, poi, sterlina dollaro, ovviamente, questo dipende, dopo il 15, dobbiamo fare attenzione al 15, cosa succede, sterlina dollaro della Nuova Zelanda, anche qua, vedete, è andata a testare, una zona di supply, questo H1, però, il settimanale, vedete, come, qua si vede bene, la movimentazione c'è tutta, qua, si vede bene, su H1, però, al momento, per me, il migliore scenario, è Euro New Zealand, Euro New Zealand, ecco, qua, testa e spalla, che ho fatto, una doppia movimento, poi dopo è sceso, qui, si va ancora, sello a mercato, 50 lettere, bene, e da qua, potrebbe essere un altro, ABCD, con, un movimento, che potrebbe raggiungere, eccolo, qua, quindi, possiamo avere, altri, 1200 punti, eccolo, qua, vedete, come, si è mosso, verso il basso, peccato, per, che, abbiamo preso il top, qua, poi, dopo, all'improvviso, è sceso, il testa e spalla, quello, del, poi, è sceso, andiamo, a vedere, invece, il gold, i gold, i metalli, i prezzi, le varie commodity, tra cui, US crude, qua, mantengo, il sero al mercato, qua c'è una pin, vedete, quindi, ha mantenuto questa micro resistenza, abbiamo, su gold, in ottica, abbiamo una bearish alt shark, eccola, qua, quindi, da qua, potrebbe partire, una movimentazione, a ribasso, cioè, ancora, siamo, mantenuto, questo, vedete, qua, siamo, su una zona, eccola, qua, una zona, molto interessante, sotto, 1305, 577, quindi, zona, di supply, da qua, io, per me, è sella, ancora, la view, è ancora, ribassista, per quanto riguarda, invece, US crude, dopo aver preso profitto, long, ci siamo girati, sell, perché, praticamente, eccolo qua, guardate, che bello, su H4, adesso, sta correggendo, vedete, però, molto interessante, e seguite, H4, così, qua abbiamo, una zona, di supply, vedete, punto di swing, primario, da prendersi, questa trend line, qua, abbiamo chiuso, l'ultimo buy, e adesso, ci siamo messi, sell, primo target, secondo target, secondo target, molto in poello, perché, praticamente, 50, 61,8, la mia view, se continua così, a 47,73, se scende, verso il basso, mi va a chiudere, anche il secondo target, e qua, mi vado a rigirare, ok, questo è, per quanto riguarda, io e scrutto, per quanto riguarda, invece, gli indici, io, al momento, per me, la view, rimane ancora, bearish, in particolare, il DAX, quelli che io guardo, con maggiore, frequenza, vedete, anche qua, siamo al 50, 61,8, quindi potrebbe, continuare a scendere, qui, solo sopra, questo livello, sarebbe, 11.055, vedete, dove ci sono stati, diversi rimbalzi, qua sopra, potrebbe partire, un long, andiamo a vedere, in NASDAQ, in NASDAQ, ottica, giornaliera, la view, al momento, un attimo, che è un po' sporco, se vado a tracciare, fibonacci, da qui a qui, 50, 61,8, vedete, quindi, siamo, zona fibonacci, zone più, questa, eccola qua, sotto, a 6,657, il mio livello annuale, vado a tracciare, anche un fibonacci, da qui a qui, e il prezzo, si trova, e abbiamo, sempre un 61,8, molto interessante, questo 61,8, quindi abbiamo, un prezzo cluster, eccolo qua, quindi sotto questa zona, si va sell, c'è una maggiore, vedete, la view, è sempre di bassista, anche per quanto riguarda, quindi, il, downjohns, deli, siamo, al test del 50, sotto 50, 61,8, qua, abbiamo questo 24,056, ma, la situazione, si vede molto bene, su, H4, eccolo qua, su H4, abbiamo, la presenza, di una, bearish, white swan, questa qua, patta in armonico, dove, ha terminato il suo punto D, su una zona, di supply, molto importante, che già è stata testata, in passato, diverse volte, quindi, da questa zona, ci potrebbe stare, una movimentazione, ribassista, bene, per, questo fine settimana, tutto, abbiamo visto anche, i cross, le maggiori, al momento abbiamo, i maggiori scenari, e, per quanto riguarda, gli indici, quindi, abbiamo tutto, abbiamo fatto, tutta la nostra, la mia watching list, bene male, valuta, cross, valute, le major cross, indici, metalli preziosi, metalli preziosi, che vi è scorruto, bene, per, questa, fine settimana è tutto, vi ringrazio a tutti, nella vostra presenza, anche durante la diretta live, in sede molti, abbastanza, quindi, vi ringrazio, e, niente, ci vediamo, direttamente, lunedì mattina, con la prima diretta live, della nuova settimana, alle ore 8 e 30, e, vi auguro, un buon fine settimana a tutti, grazie, e al prossimo appuntamento, a tutti,